buongiorno ragazzi ho poca voce farò un video breve ma volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla live per chi volesse sostenere questo canale nel suo piccolo è stato l'unico e ci sono le prove che è riuscito a fare un po' di chiarezza per chi volesse sostenere questo canale iscrizione gratis e campanellina abbiamo anche oltre questo una chat whatsapp dove non devi pagare abbonamenti non ti arrivano fatture a casa non ti chiama la signorina del marketing se vuoi entrare in chat degli esorerati in scansione al code e vieni con noi a fare due chiacchiere eh ragazzi ci stiamo avvicinando ad un triste epilogo mh prospettato più volte da questo canale perché stamattina allontanano ancora tranne la gazzetta di Pechino ma allontanano tutti zang dall'inter ma sta venendo fuori una cosa gravissima che chi la scrive sicuramente sa di potersi prendere le proprie responsabilità di quello che sta dichiarando finisco il discorso grazie per essere stati così numerosi ieri live una live dove mi state facendo tutti i complimenti ma non li dovete fare a me li dovete fare a questi ragazzi all'avvocato pierre a fmg a 7up per le grafiche per tutti gli short perché gli short sono tutti fatti da 7up le grafiche sono tutte fatte da 7up cose come queste per strammatizzare guarda sono fatte da 7up e stamattina siamo proprio siamo arrivati secondo me in cima alla piramide perché si sta avvicinando a questo triste epilogo per chi ti fava eh Zang e non l'Inter motivo per cui continuo a dire servivano io parlo già al passato di Zang ai tifosi dell'Inter per i tifosi dell'Inter servivano persone non compromesse con il regime di Nanchino che potessero raccontare la verità mentre hanno sempre detto o bagianate o detto cose in maniera che portassero determinati vantaggi al regime di Nanchino quindi sono stati presi in giro i tifosi dell'Inter ma qual è il triste epilogo? Il triste epilogo è che quello che scrive stamattina eh se non sbaglio sempre Alessandro Giudice comunque eh non mi sembra l'ultimo degli arrivati ha scritto anche qualche libro se non sbaglio che secondo le norme federali un presidente per fare il presidente di una scuola di calcio ti ricordi quando ti dicevo ma come fa da nulla tenente a fare il presidente di calcio uno si dichiarano un tenente quante volte me l'hai sentito dire bene oggi siamo arrivati alla fine perché secondo le norme federali eh per fare il presidente di una scuola di calcio in Italia deve avere dei requisiti di onorabilità e solidità patrimoniale questo lo dice il regolamento della FIGC e quindi secondo quello che scrivono stamattina non solo Zang eh è lontano dal Niter ma non può fare più nemmeno il presidente soprattutto dopo la condanna e ha ricevuto la construction bank io ripeto ragazzi ognuno la pensa a modo suo io sono convinto che tutti noi vogliamo bene all'Inter ognuno a suo modo io di questo non ho dubbi però ragazzi io mi dispiace ma io sono arrivato dopo Fabio Bergomi perché lo stavo facendo io per l'appunto poi eravamo al telefono insieme come ho detto ieri io abbraccio sposo totalmente la tesi di Fabio Bergomi che dice che al di là di tutto eh da interista perché noi siamo interisti vincere non è l'unica cosa che conta questo lo dicono alla Juve da interista e persona onesta un pochino mi vergogno di avere un presidente ricercato per questi reati chi non lo dice è complice io mi associo totalmente a quello che dice Fabio Bergomi come ho fatto ieri sera e ho cercato di non mettere a disagio l'avvocato Pier perché lui ovviamente deve stare attento a quello che dice per il lavoro e fa quindi ragazzi ma di cosa stiamo ragionando ancora qui ma quelli che parlavano di rifinanziamento fatto dello sponsor porno dello sponsor ludopatio dove sono finiti ma ma vi rendete conto dove siamo arrivati ma io mi meraviglio che lui abbia potuto fare il presidente per altri due tre anni perché secondo me lui non doveva più essere il presidente dell'inter da due tre anni non puoi fare il presidente dell'inter ma 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 che immagine dà questo presidente all'inter ragazzi ma siamo pazzi ma vogliamo chiamare a che manenti facciamo detto sì per scherzo chiamiamo a che manenti a questo punto lo facciamo socio di minoranza ragazzi ma noi siamo l'inter le vittorie sono importanti ma vincere l'unica cosa che conta lo dicono alla juve non lo dicono all'inter bisogna vedere cioè devi vincere ma con l'onorabilità devi vincere essendo onesto non con queste schifezze ma non perché hanno fatto cose disoneste all'inter se accosti un presidente all'inter deve avere una certa onorabilità e purtroppo lui non ce l'ha più è inutile girarci intorno ragazzi non ce l'ha più non parliamo poi di solidità patrimoniale ma chi è quel pazzo gli presta soldi soprattutto dopo la condanna della banca cinese ma chi ma chi gli dà una mano la cina su ring che ha preso soldi dallo stato cinese da una mano a lui per ricca chi chi gli dava una mano chi mi sta andando via la voce devo concludere il video parliamo di kim difensore ex napoli al bayern monaco scusate diciamo e kim la la sua stagione migliore in carriera l'ha fatta proprio in italia dai partenopei a bayern ha inanellato una serie di prestazioni in colore per così dire ed è finito in panca quindi bayern non gioca mai scusa ah c'è un ingaggio da sette milioni c'è un ingaggio da sette milioni non so se c'è delle crescita ma non penso sette milioni di ingaggio cominciano a essere tantini capisci che ti voglio dire sul rinnovo di acerbi questo non te lo dice nessuno ma te lo dico io l'ultimo anno di contratto del rinnovo di acerbi può essere rescisso eh sia dal giocatore e da che dalla società quindi è è un anno astratto l'ultimo anno di contratto di acerbi è una cosa bilaterale che possano rescindere sia il giocatore che la società su zigzee ragazzi zigzee ve l'ho portato io su youtube non lo conoscevate dite la verità ma non voglio la medaglia lo so ma questo perché te lo dico te lo dico perché lo so che è forte quel ragazzo ma non vale 40 milioni vale di più di 40 milioni non te lo vendono a 40 zigzee partiranno da 50 milioni lo vedrete quest'estate ma l'inter buongiorno sembra una cosa fatta ma come fai a prendere buongiorno a 40 milioni dove li trovi gli dai carboni a 20 sia gli altri 20 come fai a darglieli con questa proprietà quindi grazie incominciamo un passetto alla volta intanto apriamo la porta a steven grazie di tutto ciao steven e buona vita e poi vedrete le cose non possono altro che migliorare perché così sia a livello di immagine sia a livello morale sia a livello di etica avanti non si poteva più andare e ripeto servono per servivano persone non compromesse con il regime di nanchino perché hanno raccontato una miriade di cazzate ciao inter